Presentato un nuovo sito che è dedicato all'osservatorio sul mercato del lavoro, in che cosa consisterà? Allora, si tratta di un contenitore di dati in cui abbiamo raccolto sia i dati a disposizione del nostro sistema informatico sintesi, sia i dati che abbiamo raccolto in collaborazione con una serie di partner che hanno portato avanti con noi questo progetto e che abbiamo poi elaborato in alcuni rapporti trimestrali e annuali per conoscere l'andamento occupazionale e i bisogni formativi e occupazionali delle aziende del nostro territorio. È a disposizione, si può accedere direttamente dal link della provincia di Brindisi ed è un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con il Formez Italia di Roma. L'utente che cosa potrà trovare dunque? L'utente trova sia il singolo dato relativo alla popolazione attiva, al tasso di disoccupazione, tasso di occupazione, sia anche un'analisi di questo dato e quindi i profili maggiormente richiesti, l'analisi appunto dell'andamento occupazionale del nostro territorio e quindi orientarsi anche sulla scelta eventuale di percorsi formativi o comunque per gli studenti di corsi di studi che possano in un certo senso aiutare poi ad avere un impatto occupazionale buono. Grazie. 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 Grazie.